Musica Nell'assurda e annosa vicenda che riguarda il signor Attilio Paradiso, 62enne residente a Sant'Angelo a Cupolo, il quale da 15 anni protesta per il difficile accesso alla propria attività dopo che gli fu chiusa la strada comunale all'altezza dello svincolo, dal quale si poteva raggiungere il suo mobilificio, poi chiuso. Oggi siamo qui per aggiornarvi e aggiungere un nuovo tassello. Tutta la sua storia è online sul sito web www.vienescrivipuretu.net. Il 15 mazzo scorso, alle 9.30, dinanzi al GUP Roberto Melone, si è tenuto dopo quattro anni dalla denuncia la seconda udienza preliminare del processo contro il comune di Sant'Angelo a Cupolo. Ecco gli aggiornamenti. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Penale di Benevento, dottor Melone, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio del PM Antonio Clemente, ha rinviato a giudizio il geometra Nicola Maioli, difeso dall'avvocato Carmela Esposito, capo dell'ufficio tecnico del comune di Sant'Angelo a Cupolo, dinanzi al Tribunale Penale di Benevento per l'udienza del 6 novembre 2013. Il GUP ha rimesso al PM il procedimento contro l'altro indagato, l'ex sindaco del paese, Gidio Bosco, avendo il PM commesso nuovamente un errore di notifica. E si attende l'esito delle indagini che lo sesto PM non ha ancora concluso, e per i medesimi ed altri reati, a seguito di denunze e querelle esposte contro il prefetto di Benevento e funzionari della prefettura, contro la procura il nuovo sindaco Fabrizio D'Orta, l'ex sindaco Michele Bicere, un funzionario del Ministero degli Interni e di altri funzionari del comune di Sant'Angelo. Continua dunque la battaglia legale del signor Paradiso, difeso dall'avvocato Togo Verrilli, e come disse lui, il diavolo indietreggia e il Paradiso avanza.